Il retail park di Monte Cassiano è sottoposto come tutti i centri commerciali alle restrizioni di legge di questo periodo, ma gli esercenti del posto non sono d'accordo. Paolo Pagnanelli li rappresenta? Quali sono le vostre esigenze? Sì, abbiamo mostrato nei giorni scorsi le nostre perplessità per questo decreto ministeriale che secondo noi è stato troppo penalizzante sostanzialmente. Non ci potremmo permettere queste chiusure sotto un periodo molto importante sotto il profilo economico, quello vicino al Natale. E purtroppo non abbiamo potuto far nulla anche se nei giorni scorsi abbiamo incontrato i vertici alla prefettura e abbiamo posto le nostre perplessità affinché si potesse variare, affinché si potesse restare aperte nei fini di settimana. Non ce l'abbiamo fatta perché anche loro hanno le mani legate da questo decreto, c'è poco modo di interpretazione, quindi c'è poca possibilità di manovra. Ci siamo mossi in questi ultimi giorni sotto il profilo politico, quindi abbiamo sentito alcuni esponenti della regione affinché ci potessero dare un aiuto perché secondo noi questa chiusura non è neanche giusta perché avevamo garantito tra l'altro le distanze che erano un punto importantissimo per evitare il contagio del Covid. Quindi pur mostrando ancora più sicurezza sotto questo profilo non hanno voluto sapere ragione perché non hanno avuto possibilità di fare altro. Voi fate queste proposte perché questo centro commerciale è un po' particolare. Sì, noi riteniamo che fosse, infatti come voi potete vedere non è del fatto di simile al centro storico di Macerata, insomma vetrine distanziate, tutte le entrate sono singole, non c'è un'entrata unica, per cui secondo noi è simile a qualsiasi centro storico di ogni altra città. Poi città piccole come la nostra, come Macerata, non sono centri così importanti da 200-300 mila abitanti, insomma, quindi si possono controllare gli ingressi delle persone con molta facilità. Questo l'avevamo già garantito in altri tempi, avremmo ancora potenziato questo aspetto, quindi saremmo stati ancora più attenti nel mantenere le distanze degli eventuali fruitori e clienti. Ecco, state facendo questo sit-in tra diversi operatori del retail park di Monte Cassiano, però avete anche fiducia che in questi giorni possa essere modificato qualcosa? Sì, ci sono state date alcune rassicurazioni sulla volontà di provare a fare qualcosa a livello regionale, anzi stavamo aspettando una sorta di risposta da ieri sera ma probabilmente non c'è stato il tempo necessario, speriamo nei prossimi giorni e quindi nei fini di settimana. Tenevo a precisare che oltre a noi che siamo operatori attivi, quindi abbiamo delle attività commerciali, ci sono anche, come potete vedere, dei lavoratori, insomma, che sono molto preoccupati anche essi ed alcuni proprietari dei locali, cioè qui si rischia di effettuare che ci sia un effetto domino, insomma, quindi ci sono perplessità a tutti i livelli, anche per i lavoratori stessi, non vedono un futuro molto limpido e rassicurante.